Ciao a tutti. Benvenuti al nostro canale. Oggi vi parleremo delle recenti notizie riguardo a Francesco Totti e Noemi Bocchi. Sembra ci sia un po' di agitazione intorno alla loro relazione. E vogliamo darvi tutti i dettagli. Recentemente, Noemi Bocchi ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram. Mostrandoci che stava partendo per Tokyo da sola. Questo ha immediatamente scatenato i pettegolezzi su una possibile crisi tra lei e Francesco Totti. Dato che di solito li vediamo sempre insieme. Ma aspettate un attimo. C'è di più. Abbiamo scoperto che Noemi era in realtà diretta a Tokyo per accompagnare Francesco Totti nel suo lavoro. L'ex capitano della Roma è stato scelto da una rete televisiva giapponese per condividere la sua esperienza calcistica e parlare dell'importanza dello sport e dell'amore per la squadra. Quindi, sembra che non ci sia alcuna crisi di coppia in corso. Tuttavia, c'è un piccolo dettaglio interessante. Alcune storie in evidenza insieme a Francesco sembrano essere state rimosse dal profilo di Noemi. Questo potrebbe non significare nulla. Ma nel mondo dei social media, i piccoli gesti possono scatenare grandi discussioni. E il fatto che abbiano cancellato queste storie mentre sono lontani l'uno dall'altro ha alimentato i pettegolezzi sulla loro relazione. Ma ricordate. Queste sono solo voci e speculazioni. Non abbiamo conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Francesco Totti dovrebbe raggiungere presto Noemi a Tokyo. Quindi probabilmente avremo presto risposte definitive.